Benvenuti o bentornati, bentornati o benvenute in un nuovo mukbang Che cosa ci mangiamo? Allora questo è un mukbang svuoto in frigo, quello che avevo in frigo era semplicemente questo Devo decisamente andare a fare della spesa e al voto il riso e della cipolla ho fatto il riso paspati con un coppasta fatto Con una scatoletta che mi ha fatto mio papà vabbè e la cipolla è tipo soffrettina con il vino bianco e un pochino di olio Io direi ci mettiamo un po' di pepe e cominciamo a mangiare pepe che ovviamente non ho portato Ho cucinato così perché volevo, cioè, avendo tre cose in casa da mangiare stasera la scrausitudine era assoluta E quindi ho pensato rendiamo almeno carino, così almeno è un po' posh spice E vabbè, si sfrantumerà Sfrantumerà Nel senso che trapezzi non appena ci mettono una forchetta ma non fa niente, non fa niente È buono Basta questo che è buono E voilà, sorso iniziale Forchettina coltellino, stavolta forchetta normale perché vabbè E cominciamo Vediamo come Non so neanche come tagliarla questa cosa Ma non si è neanche troppo? Sfrantummato Ma non si è neanche troppo? Sfrantummato Ho i capelli nuovi Sono riuscita a girare il video mentre li facevo quindi Non so se è già uscito o se esce dopo questo Vabbè però Se volete potete guardarlo Assaggiamo Farne fare così Se si riesce Vorrei spostare questo qua E mangiarmi Questo Ho lasciato la cipolla un po' Non so se è di pochi mali crunchy questa cipolla però È un po' cruda Promone Qua Rappresenti Qu République decisamente è decisamente molto meglio così che nel ragù dell'altra volta ed è buono eh buono non ho fatto neanche un minimo di intro niente il vostro pane è tantissimo e l'ho ancora mangiato oggi perchè non sono stata tanto bene panchino beyond meat veloce questa sera mi ha detto che lo facevo con le patatiche ma non sarebbe stato il suotafrigo mi piacciono i capelli io li adoro non 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 forse forse riesco ad andare a quel festival crime core che vi dicevo quindi se fosse volevo fare un video mentre parlo la valigia e queste cose qua perché è una cosa che faccio sempre un po' in maniera stressata e così almeno più rilassante vabbè questa cosa è stata un'ottima idea buonissima ma poi che tempo c'è da voi fa ancora caldo da me sta già cominciando a fare freddo secondo me è troppo nevica incredibile ho messo il computer a chilometri di distanza e ancora lo sento però secondo me è meglio tipo chi lo guarda o chi l'ha già visto nel video dove faccio i capelli il computer è praticamente davanti a me sarà vicino al microfono secondo me secondo me si sente quel rumore mentre magari in questo momento si sta sentendo meno esploderà esploderà mentre sto registrando comunque mentre editavo il video il mukbang dell'altra volta il mukbang dell'altra volta ecco pepe mentre gli davo il mukbang dell'altra volta stavo dicendo mi sono accorta cioè per tutto il mukbang mi è venuto in mente mia mamma che quando ero piccola mi ripeteva che non è la bocca che va alla forchetta ma la forchetta che va alla bocca mangio malissimo in quel mukbang scusatemi credo sia ecco pepe ciao pepe non credo sia a colpa della forchettina che può che mi cadono le cose pepe ma ti pare c'è ormai lui si deve partecipare sempre pepe ma poi non è carne non la puoi mangiare pepe amore cosa fai qua la verità la verità è che questa che uso come tovaglia per a tutti i dei colpi di quando appoggio il bicchiere eccetera in realtà è una coperta ed è la mia coperta perché non lo sono pieni di coperte essendo nudi ma ovviamente io ho questa e quella di bambi non so se l'avete mai visto vabbè comunque e ovviamente lui quale coperta vuole questa è quella di bambi e per carità poi come vedete ci sta però gli sphinx non so se lo sapete ma sudano hanno questo sudorino che un po' macchia le cose quindi preferisco che usino le loro coperte invece che le mie ma come vedete questa è la combo sto registrando sto registrando e ho la coperta quindi figuratevi peppino peppiniello vieni qua dai poi si vede il culo sempre vai vedere vieni in braccio però mambo almeno ok no non puoi restare dalla coperta per la forza dai posso finire di mangiare amore non puoi camminare qua ci mangio con queste zampine già che cammini sul tavolo guarda ecco qua posso finire di mangiare bambino lo stabito l'ho aspettato che torna apposta guarda come faccio a mangiare adesso come si fa a mangiare così provo a mangiare così cioè non ce la farò mai bebe dai bebe già si rompe tutta questa cosa guarda non ho parole bebe guarda è impossibile per questo non è la mia mano posso io mangiare così secondo te dai bebe guarda è di composto che siamo siamo a tavola bebe è di composto nooo non puoi non ti fa bene bebe non ti fa bene qua un po' ti riso qua un po' ti riso scondito tanto qua non c'è niente nooo grazie 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 perché devi sempre stare al centro dell'attenzione si proprio guardano si proprio un capricorno non so se vi ho mai detto non so se vi ho mai detto pezzi di biondo non so se vi ho mai detto questa cosa ma lui è nato lo stesso giorno della mamma di mio marito ed è uguale alla mamma di mio marito per certe cose ovviamente e caratterizzamente intendo e l'ottina invece è nata lo stesso giorno di mia sorella l'uno febbraio lei per esempio è identica a mia sorella fa le stesse cose di mia sorella per esempio faccio un esempio quando eravamo piccole per esempio guardavamo notte horror quella cosa che andava la sera in seconda serata un po' di tempo fa ma l'hanno rifatto anche qualche anno fa se non sbaglio ma vi parlo di tempo fa quando eravamo piccole e ci compravamo il pacchetto di patatine da mangiarci mentre guardavamo il film che c'era immancabilmente ogni volta ogni volta amore ma quanti baci questo cat immancabilmente io allora lei strafocava il pacchetto di patatine io invece addirittura perché non è che sono diventata pazza poi con il cibo già lo ero mi ricordo che nel pacchetto spezzavo la patatina e ne mangiavo soltanto metà nella mia testa questa cosa serviva per far durare di più il pacchetto e far durare per tutto il film quindi che cosa succedeva succedeva che io a un certo punto avevo ancora mezzo pacchetto di patatine mia sorella invece il sole aveva finito e ogni volta immancabilmente la cosa era mi dargli un po' di patatine ma io dico abbiamo un pacchetto per uno seduto se lo sei strafogato e io invece mangio come una fra l'amica perché voi devo mangiare meno patatine e darle a te l'orte fa uguale si strafoga il suo cibo lui mangia lento a volte lo lascia lì torna a mangiarselo dopo e lei gli ruba il cibo gli giula il cibo e niente ha deciso che la sua compagnia non vuole più deniarci della sua compagnia così possiamo terminare di mangiare io non ho parole cioè io aspetto che lui dorme e lui si steglia per finire qua vabbè urlerà di nuovo ma poi sto sussurrando al gatto ma cioè si sente super forte il computer di là dove l'ho messo finirà perché nel mente tra l'altro già di là che tanto è inutile che la cipolla è perché me la tengo da parte non so con cos'altro mangiarla me la mangio adesso beh è buono è buono poi non si è neanche costando rotto non scalo niente con il vino rosso avvicinato così mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace non porto mai un tovagliolo in questo caso sarebbe servito un tovagliolo non so mai il tovagliolo non so se ci avete fatto caso tipo mia mamma e mio papà per forza devono avere il tovagliolo io io è nulla grazie per essere stati con me intanto che mi stravocavo questo beyond meat cucinato in questa maniera molto direi pittoresca molto bosch spice e basta ci vediamo un altro video convenevoli mettete un dislike se il video vi è piaciuto mettete un un like se il video vi è piaciuto un dislike se il video non vi è piaciuto se ne siete iscritti se ne siete iscritti join the street club iscrivetevi al canale e basta basta davvero ciao lo so dire posh spice mi fa venire in mente che se non sbaglio non vorrei dire una cavolata ma ho questa rimembranza del fatto che se Jerry e Mels Jerry e Mel B fossero fidanzate e qualcosa non andava bene non lo so devo ricercare questa cosa magari ne parliamo in un video ma perchè no? almeno qualcosa da dire nei bookmine che si Sì A presto. 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 A presto.